Allora ragazzi, che cosa potreste ai murazzi? Nel murino che vorrei? Nel murino che vorrei? Nel murino che vorrei? Sicuramente già, ma io li voglio rivedere come l'ultima estrazione Esatto, vada lì Allora, questo credo che sia un problema di finanziamento Mettiamola così Ok, ma così come mi piace, vorresti migliorarlo, proponete qualcosa Vero? Tu stai facendo l'anonimo, te lo ricordi? Vabbè, dai Sono comparso, sono comparso Sento che stai facendo l'anonimo Benissimo, quindi così mi piace È solo martedì sera Potete immaginare come succederà i veri? Però un peccato, io avrei voluto vedere lì, è uno splendore Non era troppo caotico Ma non lo so, mi hanno detto che c'era un bel ambiente Sei mai stato? Ci sono passato Di persona No, perché se no non saresti sopravvissuto Dai, rettami a dire Va bene, mi fido Poi, cinque minuti stanno praticamente scaduti Grazie per la vostra idea Buona serata E tornate Arrivederci, ma davvero